Ciao amici, ultimamente mi sono arrivati tantissimi prodottini di Avon con cui mi sono trovata veramente bene tra l'altro questo make up occhi l'ho realizzato con le loro matite che sono morbidissime e super pigmentate comunque volevo rendervi partecipi di una super promozione che stanno facendo con soli 12,99€ troverete nel loro catalogo un set contenente tutte full size con uno spray per il corpo profumato, una crema mani, un bagno schiuma da 500 ml ragazzi, buonissimo, super profumato non è finita perché c'è anche una crema per il viso all'acqua, io già l'ho provata, è leggerissima e ti lascia la pelle super morbida e dolcesi in fondo, uno dei toilette da 50 ml al muschio voglio dire è veramente una super promozione, tra l'altro avete 1, 2, 3, 4, 5 prodotti che per esempio se avete da fare un pensierino e non volete spendere tantissimi soldi potete prendere un prodottino di questo set e lo potete benissimo regalare niente con questo spero che il video vi possa servire, se vi è piaciuto lasciate un cuoricino per info su questo set contattate Ancuta che troverete in descrizione un bacio